Se è messo un colpo, il video finisce Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo a Cragiclips per tentare la sfida di oggi che è se sbaglio Se è messo un colpo, il video finisce Tra l'altro abbiamo una skin risalente alla season 2 o 3 come anche il del Tavlano Come potete vedere è quello della season 2 del pass battaglia gratuito Quello dei cavalieri, veramente figo mettere queste cose Comunque, tralasciando questo ragazzi, volevo dire che questa sfida me l'avete consigliata voi nei commenti Perciò ho deciso di portarla Però ho cercato su Youtube e già un altro Youtuber di nome Dabi l'aveva portata Quindi bro, ovviamente voglio darti i crediti e voglio ovviamente anche salutarti Allora, fatto questo ragazzi, direi che possiamo procedere alla nostra sfida E stare un po' attenti a come ce la caviamo Perché io devo stare molto attento a quello che faccio Ok ragazzi, tutti i colpi sono andati a segno, perfetto Ovviamente voglio dirvi una cosa Io col fucile a pompa ho una rosa che contiene più i proiettili Però a me basta che anche solo uno di quelli vada a segno Discorso molto diverso per le mitragliette e i fucili d'assalto Quindi in quel caso devo stare molto molto più attento ragazzi Cioè è proprio ovvio, sicuro Quindi non lo so, aspettate Allora, cerchiamo di avvicinarci almeno Se proprio devo tentare dei colpi Per esempio qui dalla finestra sarebbe assolutamente inutile feitare Mentre invece questo tipo che sta salendo Molto più pericoloso di quanto pensassi Attenzione Vai Calma, 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 calma Allora, cerchiamo di avvicinarci almeno